Sesto turno di Pool Promozione 1 di Serie A per l'Aquila Rugby Club, che domenica 25 marzo alle ore 15.30 affronterà l'Ottopagine Benevento, in terra campana. Sarà difficile la trasferta per il 15 Nero Verde, gravato da numerosi infortuni ai quali se ne sono aggiunti altri domenica scorsa a Calvisano. Sono fuori gioco Nicola Rettagliata, che lunedì sarà operato per la riduzione di una frattura alla mano. Giancarlo Carnicelli in attesa di risonanza alla spalla, Francesco Palmisano, che ha subito una distorsione al ginocchio. In forse c'è Pierpaolo Angelozzi per problemi al polpaccio, Marcello Angelini per una contrattura e Mattia Vaschi per una contusione. I Nero Verdi dovranno lottare duramente per avere la meglio sui padroni di casa dell'Ottopagine Benevento, in ripresa dopo un avvio difficile nella pool. La voglia però di tornare alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive è tanta per i Nero Verdi, come anche l'entusiasmo di scendere in campo da parte del giovanissimo gruppo aquilano. Il fischio d'inizio sarà le 15.30 ad opera di Emanuele Tomò.